La cornice storica e suggestiva di Palazzo De Filippis a Bello Sguardo è pronta ad ospitare un evento all'insegna della diffusione della cultura enogastronomica locale, con l'obiettivo di permettere anche un maggior afflusso di turisti nelle aree interne, favorendo la crescita della microeconomia del territorio. Domenica 13 ottobre, a partire dalle 16, andrà in scena Terre dell'Aglianicone, organizzato da Palazzo De Filippis e dall'Associazione Terre dell'Aglianicone con il patrocinio del Comune di Bello Sguardo, dell'Associazione Onav e del Consorzio Vita Salernum Vites. Per la prima volta a Bello Sguardo verrà organizzata una masterclass con banchi d'assaggio dei produttori di aglianicone del territorio. L'evento enologico sarà anche l'occasione per illustrare il progetto ATA, Associazione Terre dell'Aglianicone, che nasce con l'intento di riportare in auge la coltivazione dell'aglianicone, antica varietà di vite del territorio cilentano. L'aglianicone scomparve dalla zona degli alburni cilento per diversi motivi, di cui alcuni sicuramente legati ad una scarsa produzione, che portò alla sostituzione di questo vitigno con varietà più produttive come il Barbera e il Sangiovese, in seguito all'arrivo della filossera nei primi decenni del Novecento, parassita che debellò la maggior parte della vitivinicoltura italiana. Alcuni ceppi resistiti al parassita e presenti in terreni ormai abbandonati furono poi riscoperti e reimpiantati da piccoli produttori locali, permettendone la conservazione e la coltivazione sino ai giorni nostri. Oggi circa una decina di produttori locali, titolari di aziende vitivinicole nel Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Dalburni, si sono uniti in un'associazione con lo scopo di valorizzare al meglio questo vitigno storico, garantendo standard di coltivazione, trasformazione e vendita di qualità elevata ed un basso impatto ambientale, grazie all'utilizzo di tecniche di agricoltura integrata ed altamente sostenibile. Alla luce di ciò, la società neocostituita Cilento Wine & Food, SRLS, attraverso l'attività da poco nata nel cuore del Centro Storico di Bello Sguardo a Palazzo dei Filippis, si propone di valorizzare al meglio il patrimonio enogastronomico della Valle degli Alburni e del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Dalburni.